Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione di Tg Versilia. C'è la data per la sentenza di primo grado sul processo alla strage ferroviaria di Viareggio il 31 di gennaio prossimo. È quanto deciso nell'udienza di questa mattina al Tribunale allestito al Polo Fiere a Lucca. Ci saranno ancora alcune formalità da sbrigare in un'ultima udienza e poi a fine mese l'attesa sentenza. Il punto nel nostro primo servizio. Un'ultima udienza che servirà ad espletare alcune questioni procedurali. Poi la Corte si rinchiuderà in Camera di Consiglio dalla quale uscirà con l'attesissima sentenza prevista per il 31 gennaio. Iniziato nel novembre 2013, volge al termine il processo di primo grado per il disastro ferroviario di Viareggio del giugno 2009 nel quale persero la vita 32 persone. Nell'aula allestita al Polo Fiere di Lucca, durante la penultima udienza, sono stati ascoltati ancora gli avvocati difensori di alcuni dei 40 imputati fra persone fisiche e società chiamati alla sbarra. Per loro i pubblici ministeri della Procura di Lucca, Salvatore Giannino e Giuseppe Amodeo hanno avanzato alla Corte presieduta dal giudice Gerardo Boragine richieste per oltre 250 anni complessivi di reclusione e pene pecuniarie per più di 7 milioni di euro. I familiari delle vittime si augurano che i tempi di chiusura vengano rispettati. Tutto ciò avviene infatti quando stanno ormai per cadere in prescrizione reati gravissimi come l'incendio colposo e le lesioni gravi colpose. Vi terremo aggiornati anche nelle prossime ore sugli sviluppi e ovviamente in questi giorni che ci separano da una sentenza attesa ormai da 7 anni e mezzo dalla città di Viareggio. Una tragedia è sui binari alla stazione ferroviaria di Pisa. Un uomo di 48 anni, residente a Viareggio, si è tolto la vita prima delle 14 gettandosi sotto un treno in partenza alla stazione Pisana. Era diretto proprio a Viareggio, ripreso dalle telecamere della videosorveglianza. Non ci sono dubbi sulla dinamica dei fatti. Lo ha ricostruito la polfera, l'esatto succedersi degli avvenimenti. L'uomo che si è inginocchiato sulla banchina del binario avvicinando la testa al convoglio in partenza. Nessuno si è accorto di niente, recupero della salma di fronte a decine e decine di persone. L'uomo in tasca con sé aveva un biglietto ferroviario diretto a Viareggio dove risulta avere una residenza che però frequenterebbe in modo saltuario. Cambiamo argomento adesso e torniamo sul caso delle lezioni saltate a Pietrasanta per il freddo nelle scuole con le caldaie guaste o rotte ancora a stop di 24 ore alle lezioni fino alla giornata di mercoledì per due istituti scolastici. Anche a Viareggio i problemi di riscaldamento ma si farà lezione regolarmente. Il servizio. Niente scuola anche mercoledì per gli studenti delle medie barsanti e per le classi terza, quarta e quinta superiori del Don Lazzeri stagi di Pietrasanta. Due in tutto i giorni di chiusura come da ordinanza del sindaco a causa di un guasto alla caldaia che non è stato possibile riparare in tempo utile ha fatto sapere il comune. Sette in tutto gli impianti trovati spenti oppure guasti in altrettante scuole al rientro in aula dopo l'epifania. Decine bambini dei nidi riportati a casa lunedì mattina tra questi l'asilo scubidù dove il riscaldamento è tornato. Valuteremo tutte le azioni possibili nei confronti della ditta che ha in gestione la manutenzione per capire se ci sono responsabilità, spiega Simone Tartarini, assessore alla pubblica istruzione. Avevamo chiesto espressamente con l'inizio dell'anno, prosegue Tartarini, di verificare il funzionamento degli impianti. Il sindaco Massimo Malleni invece si era scagliato contro due dirigenti e tre funzionali del comune pronto a prendere provvedimenti senza però ancora specificare quali. Scuole al freddo anche a Viareggio. Alle Florinda, al quartiere Migliarina, sono arrivate le stufette elettriche per sopperire al blocco del riscaldamento. Secondo il vice sindaco Walter Alberici, la caldaia sarà riparata entro mercoledì mattina. Tutti a scuola, dunque, regolarmente. E sempre a Viareggio tornano in aula anche gli alunni della primaria Leone Sbrana all'ex campo d'aviazione, chiuso a lunedì e martedì per lavori urgenti di messa in sicurezza dell'edificio. Sul caso caldaia e Pietrasanta, durissima la posizione del Partito Comunista Italiano che chiede le dimissioni dell'assessore a ramo Simone Tartarini. Ma andiamo a Viareggio dove ci arrivano ancora segnalazioni di degrado dal quartiere Varignano, ancora di scariche e di rifiuti. Risulta essere la zona più critica, il quartiere periferico, dove ogni giorno arrivano segnalazioni da parte dei residenti. Da alcune settimane, come sapete, coperti dal servizio di raccolta porta a porta. Segnalazioni che arrivano dal quartiere Lenci, dal quale vediamo proprio queste immagini, e anche dal quartiere Salvatore Allende, di fronte al campo Vasco Zappelli. Rifiuti abbandonati ai piedi dei bidoni della Sea, cumuli di spazzatura che si ammassano di fronte ai condomini del più popoloso dei quartieri Viareggini, dove da circa un mese è partito il servizio domiciliare. Sono tantissimi sacchi di indifferenziato che continuano ad essere conferiti e soprattutto abbandonati. In alcuni casi anche i bidoni della differenziata risultano stracolmi. Proprio qua siamo di fronte al Vasco Zappelli, lo vedete, lo mostrano queste immagini. Da un lato a Varegnano c'è chi lamenta l'insufficienza dei passaggi di sé risorse, ma dall'altra resta l'inciviltà di chi abbandona i rifiuti, approfittando dei bidoni dei condomini, e chi non differenzia correttamente, continuando a gettare tutto quanto nell'indifferenziato. E qua ci sono le immagini e l'ennesima segnalazione. Parliamo adesso di pesce irregolare che è stato sequestrato dai militari della Capitaneria di Porto durante le feste di Natale. I militari della Guardia Costiera Viareggina, impegnate nel periodo natalizio e nell'operazione Candaun sulla filiera della pesca a mare e a terra, hanno elevato in Versilia sanzioni per quasi 10.000 euro e sequestrato 15 kg di pesce. La Guardia Costiera è sequestrato a ignoti attrezzi da pesca non segnalati, pericolosi per la navigazione, sempre nella stessa operazione di controllo. I militari hanno sorpreso due moto pesca, contestando ai comandanti irregolarità relative ai documenti tenuti a bordo e relative alla composizione dell'equipaggio imbarcato. A terra sanzionati due operatori per aver detenuto uno prodotti privi di tracciabilità, l'altro specie di pesce in confezioni riportanti etichette con scadenza ormai decorsa. Controlli che andranno avanti anche nelle prossime settimane, fa sapere la Guardia Costiera. La notizia a questo punto confermata del G7 che sarà ospitato a Lucca nel capologo c'è entusiasmo per questo grande evento politico internazionale, ma anche in Versilia, albergatori pronti a fare la loro parte anche sulla costa. Ne ha parlato ospite nei nostri studi la numero uno di Federalberghi Maria Bracciotti. Sentiamo servizio. Lucca ospiterà il G7 dei ministri degli esteri il 10 e 11 aprile prossimo. La notizia, confermata ai nostri microfoni dal senatore Andrea Marcucci, ha generato entusiasmo nel capoluogo, dove l'ultima ribatta politica internazionale risale al vertice italo-francese del 2006, ma anche in Versilia, dove gli albergatori sono pronti a cogliere l'occasione e a ospitare i big dei sette grandi della terra e il loro staff diplomatico. Tra i candidati ci sono in testa gli hotel a 5 stelle di Forte dei Marmi e di Viareggio. Ospite a diretta Versilia, finestra di attualità in onda dal lunedì al venerdì alle 14 su rete Versilia News, Maria Bracciotti, presidente di Federalberghi Versilia, si è detta entusiasta. Un'ottima occasione, una grande notizia. Sarà un bellissimo spot per Lucca, ma per tutto il territorio. Quindi Federalberghi e l'ospitalità nostra ci sarà al 100% e saremo disponibili sicuramente a questa grande occasione. Noi abbiamo grandi numeri perché siamo quasi 400 alberghi su tutta la costa versiliese, quindi abbiamo tanti posti letto e sono a disposizione. Un ponte, quello tra Lucca e la Versilia, già sperimentato con successo in chiave turistica in occasione dell'ultima edizione dei Lucca Comics & Games. Lucca Comics che ha funzionato molto bene sulla Versilia, grazie anche all'accordo che abbiamo stretto con il Comune di Lucca, eravamo presenti sul sito ufficiale dei Lucca Comics & Games, quindi cliccando potevamo aprire tutta la serie di alberghi che si sono resi disponibili a creare delle offerte e dei pacchetti proprio specifici per quei giorni. Parliamo adesso di Carnevale, scuole chiuse per Marte di Grasso per consentire la partecipazione degli studenti alle sfilate di Viareggio. Lo potranno fare in tutta la provincia di Lucca e anche di Massa Carrara grazie ad un accordo che è stato presentato questa mattina. Vediamo. Un concorso con l'obiettivo di disegnare un carro di Carnevale destinato alle classi delle scuole elementari e medie delle province di Lucca e Massa Carrara e la possibilità per tutti gli istituti scolastici di sospendere le lezioni il Marte di Grasso in modo da poter partecipare al corso Viareggio. Il bando del concorso e le motivazioni del giorno festivo sono state illustrate dalla Presidente della Fondazione Carnevale, Marialina Marcucci, insieme alla dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale, Donatella Borriposi, nella sede lucchese dell'Ufficio Scolastico. L'iniziativa ha lo scopo di avvicinare alla cultura del Carnevale tutti gli alunni del territorio per renderli partecipi di tutto ciò che ruota intorno alla sfilata e quello, in proiezione futura, di innovare la manifestazione. Sì, noi vogliamo proprio che i ragazzi amino il Carnevale ma soprattutto che partecipando rinnovino il Carnevale. Dicevo poco fa, il Carnevale senza giovani, senza bambini, senza ragazzi rischia di invecchiare. Allora li coinvolgiamo, vogliamo le loro storie, vogliamo la loro creatività. Allora la Presidente della Fondazione, lo ha detto, ha avuto un incontro con la Regione Toscana. Chiaramente le scuole hanno la loro autonomia scolastica e quindi quello che è partito dalla Regione è l'invito alle scuole a partecipare a questa giornata. L'aspetto però che voglio davvero sottolineare e che ho molto apprezzato nella proposta della Presidente Marialina Marcucci è l'attenzione al percorso didattico e al percorso pedagogico e quindi un bambino che partecipa anche attraverso un concorso con la realizzazione di un disegno, di un caro allegorico e vi partecipa direttamente, impara, apprende. Sensibilizzare alla prevenzione per far fronte all'allarme meningite che ha già registrato, come sapete, purtroppo diversi casi in Toscana. Vaccinazione in blocco lunedì pomeriggio per la Giunta Comunale di Pietrasanta presenti anche molti membri del Consiglio Comunale che hanno risposto all'appello lanciato dal Sindaco Mallegni si sono presentate al distretto Asle in via Marteri di Sant'Anna. L'iniziativa era partita diversi mesi fa sul proposto del Consigliere Comunale e Medico Daniele Taccola. La prevenzione è fondamentale, ha detto Mallegni, importante far capire alla comunità che vaccinarsi è un modo per tutelarsi e per proteggere i nostri figli. Noi abbiamo pagato il ticket, ma ricordo che il vaccino fino a 45 anni è completamente gratuito. Così ricorda il Sindaco di Pietrasanta difendersi dal rischio della meningite è un atto di responsabilità e sono sicuro che i pietrasantini se ne siano già resi conto. Così ha commentato Mallegni. Ci spostiamo adesso a Seravezza, un anno con numeri importanti per il cinema cittadino. Adesso si pensa ai giovani, vediamo. Un anno di cinema a Seravezza. Quasi 100 titoli proiettati, oltre 10.000 spettatori. È questo il bilancio della Sala delle Scuderie Granducali che dal 23 dicembre 2015 ha restituito alla cittadina versiliese la sua antica sala cinematografica. A presentare i numeri del primo anno di attività è l'Apuania Cine Service insieme all'amministrazione comunale che ha raccolto il progetto lasciato dal sindaco Ettore Neri. Appena 160 posti a sedere per una delle uniche monosale aperte di recente in Italia. 8 eventi speciali con la partecipazione di attori come l'incontro con Laura Morante o con Gianmarco Tognazzi. Altro vanto della piccola sala, i 30 titoli del cosiddetto cinema indipendente che sono stati proiettati. Adesso, per il 2017, si punta ai giovani attraverso le scuole. E quindi quello che noi vogliamo portare è raccogliere la scommessa vinta dalla passata amministrazione e dalla Fondazione Terre Medice e aumentare l'offerta culturale e l'offerta soprattutto per i ragazzi e per le scuole e quindi procedere nello sviluppo di progetti e di mattinè quindi dedicare il cinema, le mattinate di cinema per i ragazzi e per le scuole in modo tale che le scuderie Granducali, la Fondazione Terre Medice e il cinema di Seravezza possano diventare un importante strumento anche e soprattutto uno strumento didattico. Parlavamo poco fa di carnevale a Viareggio, non c'è carnevale senza canzonetta sarà preso di mira anche quest'anno il sindaco Giorgio Del Ghingaro dalla compagnia Burlamacco 81. Vediamo. Cresce l'attesa per lo spettacolo della compagnia Burlamacco 81 che andrà in scena nei giorni di venerdì 17, sabato 18, venerdì 24 e sabato 25 febbraio prossimi al Teatro Politeama di Viareggio. Due fine settimana di risate garantite da vivere in piena atmosfera carnevalesca Lora Santini, dinamica assessora al sociale a Pietrasanta Claudio Morganti, Stefano Toncelli, Antonio Meccheri, Massimo Ghiselli, Vincenzo Cagnolo Ilaria Francesconi, Silvia Fardini e la splendida voce di Susanna Pellegrini saranno i mattatori dello spettacolo dal titolo Delle volte ritornino Il riferimento alla vicenda del sindaco Del Ghingaro ricomparso in comune a Viareggio dopo quattro mesi di esilio è evidente Comica camaleontica Lora Santini, che cura anche la regia dello spettacolo porterà in scena una pièce piena di humor, brio e note carnevalesche instaurando col pubblico un rapporto diretto fatto di battute attinte dalla quotidianità Noi aspettavamo il ritorno di Giorgio Del Ghingaro veramente a braccia aperte tant'è che il titolo della canzonetta di quest'anno è a volte ritornino e escano dalla porta e rientrano dalla finestra Noi siamo contentissimi che lui sia ritornato perché ci faremo sopra uno sketch, un finalino con tante tante battute che lui siamo sicuri accoglierà con il sorriso come ha sempre fatto anche l'anno passato Poi altre novità, il cast è sempre lo stesso, siamo già datati però abbiamo sempre uno spirito carnevalesco fortissimo, voglia di divertirci, di stare insieme e di avere il nostro pubblico e farlo divertire I biglietti di uno degli eventi più attesi del Carnevale 2017 sono in prevendita presso il Caffè Margherita sulla passeggiata Via Regina e la domenica al botteghino del Teatro Politeama Ci fermiamo per pochi istanti, tra poco ancora insieme con tutte le notizie sportive Ben ritrovati con la pagina sportiva, partiamo dal calcio questa sera a spazio al campionato di eccellenza con il punto della situazione, con un focus sul Camaiore che vede un cambio alla panchina viene infatti esonerato l'allenatore Gassani, arriva Moschetti, vediamo Seravezza sugli scudi mentre affondano Camaiore e Pietrasanta Cominciamo proprio dalla squadra Blu Amaranto del Camaiore che è incappata in una secca sconfitta interna 4-1 ad opera dei Gambassi una battuta d'arresto che ha ribadito le difficoltà della formazione camaiorese e che non è affatto piaciuta ai dirigenti locali tanto che è giunta la decisione di cambiare allenatore Via Matteo Gassani, che le cronache dicono non l'abbia presa troppo bene al suo posto è stato richiamato Paolone Moschetti un gradito ritorno, quello dell'esperto tecnico che già in passato aveva guidato il Camaiore e che si spera possa risollevare la squadra che attualmente occupa il terz'ultimo posto della classifica in piena zona retrocessione in tal senso sta ancora peggio il Pietrasanta, ultimo è staccato con soli 9 punti e che neppure la cura Ceccomori pare aver prodotto finora alcun effetto situazione difficilissima per i blues, chiamate ad una non facile rimonta bene invece il Seravezza secondo in classifica e proprio i verde-azzuri di Vangioni sono stati i protagonisti in una delle gare più importanti della prima giornata del girone di ritorno il Piombino era avversario ostico che i versilesi sono riusciti a domare di misura grazie ad una prova di assoluto orgoglio e nonostante qualche assenza di troppo grazie alla concomitante sconfitta del Roseli ad Avenza ora sono solo due i punti che separano Seravezza dalla vetta domenica prossima segnaliamo la trasserta del Camaiore a Cenaia e la sfida tutta versiliese Pietrasanta-Seravezza sulla carta una gara che vede gli ospiti nettamente favoriti ma siccome è un derby e adesso sempre per il calcio andiamo invece in Serie D dove si gode il successo Real Forte Querceta 3-1 contro il Ligorna nel servizio sentiamo le parole dell'allenatore Pagliuga vittoria importante per il Real Forte Querceta per 3-1 con il Ligorna la ripresa del campionato dopo la sosta con la tripletta di Falchini sugli scudi Ferretti ha fallito un calcio di rigore è iniziato bene l'anno quindi per i nerazzurri soddisfatto l'allenatore Guido Pagliuca ascoltiamo ora i nostri microfoni insieme con il tecnico dei Liguri Gabriele Sabatini sono contento per i ragazzi perché i ragazzi ci hanno provato in tutte le maniere il primo tempo e abbiamo sbagliato spesso come è capitato col Montemurlo l'ultimo passaggio la conclusione importa però i ragazzi se lo sono meritato siamo stati ingenui sull'occasione dell'espulsione di Ferretti che lì dobbiamo mantenere sempre la superiorità numerica invece siamo tornati in parità numerica e questo mi dispiace per il ragazzo perché ha fatto una buona partita indipendentemente dal rigore che quelle sono cose che capitano e sbagliano il rigore però sono molto contento per i ragazzi sono molto contento per la società tre rigori comunque nel corso di una partita e tre espulsioni sembrerebbe probabilmente una partita diversa da quello che poi in realtà è stata forse è stato un po' eccessivo in alcune decisioni l'arbitro Ancora per il calcio Coppa Carnevale Viareggio Cup 2017 sono arrivate le conferme anche dalla Fiorentina e dal Milan per la 69esima edizione della Viareggio Cup in programma primavera a Viareggio e negli altri campi di gioco dal calcio all'hockey su pista adesso con il risultato che vi abbiamo già mostrato del CGC contro il Trissino sentiamo come commentano i due autori delle reti Samuele Muglia e Nicola Palagi Contro il Trissino pur non giocando bene il 100 giovani calciatori ha vinto sono andati in gol Nicola Palagi, Samuele Muglia e Xavier Costa ascoltiamo ai nostri microfoni due dei tre marcatori ossia Samuele Muglia e il capitano Nicola Palagi Peccato perché la prestazione non è stata delle migliori però ripeto l'importante è dare i tre punti proviamo ad andare avanti ricostruire piano piano purtroppo siamo stati tutti un po' malati e un po' ci ha penalizzato abbiamo saltato un allenamento in settimana e la pausa a lunga di Natale magari ci ha un po' afflusciato e recupereremo questa settimana per andare in Francia ancora più carichi di come avevamo lasciato il campionato è stato importante risegnare subito perché stavamo giocando abbastanza bene abbiamo preso gol e era importante rimettere subito la partita in parità poi abbiamo gestito la partita insomma una prestazione da dopo feste natalizie il 2017 comunque è iniziato come doveva iniziare con la vittoria poi venuta come è venuta però l'importante era vincere ma certo l'importante era vincere ora ci concentriamo sulla partita di Coppa perché comunque è una trasferta abbastanza difficile è un viaggio apocalittico perché dobbiamo fare scali, pulma, aerei e quindi speriamo di fare bene in Francia passare il turno e andare ai quarti di Coppa ci fermiamo per pochi istanti tra poco ancora insieme con tutti gli aggiornamenti a tra pochissimo ben ritrovati a TG Versilia con un aggiornamento Don Andrea Ghiselli giovane parroco di Camaiore dalla sua pagina Facebook smettisce rumors sul suo trasferimento sta circolando in giro la voce da più giorni che mi stanno trasferendo da Camaiore rassicura a tutti che non è affatto vero ricorderete a fine settembre il trasferimento di Don Damiano Pacini amatissimo parroco di Camaiore per oltre dieci anni fra innumerevoli proteste e petizioni oggi appunto la conferma che Don Andrea resterà nella comunità camaiorese scongiurata la sua partenza uno sguardo al nostro sito web www.reteversilianews.com dove trovate tutte le maggiori notizie della giornata in primo piano la notizia d'apertura sulla data della sentenza per la strage di Viareggio potete rivedere tutte le notizie anche aggiornamenti e fatti nuovi come quello che vi segnalo adesso la stazione di Querceta che cade a pezzi porzioni di intonaco che si sono staccate domenica notte dal sottogronda di uno degli edifici di servizio della stazione Forte dei Marmi Querceta l'immobile più a stud le ha dato notizie allo stesso sindaco Riccardo Tarabella in un post su Facebook la zona è stata circoscritta dai responsabili delle ferrovie e dagli addetti del comune situazione che viene fotografata dal sindaco e anche tenuta sotto controllo come lui stesso specifica intanto vi ricordo che giovedì sera torno all'appuntamento con Botte e risposta in diretta alle 21 su Rete Versilia News dopo la pausa natalizia ospite della nuova puntata sarà Fabrizio Miracolo presidente di Se Ambiente si parlerà di decoro di raccolta rifiuti e di igiene e pulizia della città di Viareggio come sempre telefoni aperti per sms whatsapp attiva anche la diretta facebook sulla fan page di Rete Versilia News prima di salutarci come sempre lo spazio degli auguri questa sera tanti auguri per il suo compleanno che vanno a Valerio Vespignani di Viareggio amici e conoscenti gli augurano una buona giornata di compleanno auguri anche a Simonetta Bemi di Viareggio per il suo compleanno auguri dagli amici del bagno 90esimo minuto di Focette auguri da parenti e amici e infine festeggia 90 anni Alfio Cinquini di Viareggio residente da sempre a Varignano auguri da parte dei figli dei parenti e di tutti i suoi amici è davvero tutto per questa edizione grazie per essere stati con noi e buona serata grazie a tutti 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 Grazie a tutti.